Buongiorno, buon martedì amici di BetItaliaWeb, siamo anche oggi in vostra compagnia, partiamo subito veloci senza troppi preamboli perché c'è tanta carne al fuoco, c'è la Champions League, dobbiamo vedere il programma della giornata, c'è anche il basket, il volley, l'ok su ghiaccio e poi le nostre free pick. Ieri leggero positivo grazie a Darius che ha chiuso la multipla, ne parliamo comunque dopo e vi daremo anche 12 free pick oggi, ieri pochezza, solo due giocate più la multipla di Darius del weekend che si è completata con Lecce Cagliari, oggi ve ne diamo un'altra di multipla di Darius sulla Champions League, quota 4,28, poi vi diamo lo studio di D'Artagnan, 6 pick sulla Champions League tra oggi e domani, mettiamo già avanti anche le giocate di domani, cerchiamo di chiudere il settimo studio consecutivo di D'Artagnan in profitto e poi ci sono anche ben 5 giocate sull'hockey KKL, quindi preparate il taccuino perché è giornata da non perdere. Iniziamo col programma, anzi giusto, un'ultima cosa, arriviamo anche da un'ottima notte nel canale VIP degli sport USA, fra Ritz 5 su 5 in NBA, all green, grandi casse, vi ricordo che questa è la settimana di Black Friday, ogni giorno una promozione, se avete visto il mio faccione sui canali Telegram questa mattina a darvi il buongiorno, non è stato un gran buongiorno, però se mi avete ascoltato c'è una promozione speciale oggi, valida solo per oggi sconto del 35%, con 30€ ricevete la guida sugli sport americani con tante statistiche, strategie di gioco eccetera eccetera su tutti gli sport USA, sono 87 pagine in formato PDF e in più entrate nel nostro canale VIP dove trovate ogni giorno gli studi e tutte le free pic mie, di Morfeo, di Underdog King, di Bucnuchem e di Frarizzo ovviamente, su basket NBA, hockey NHL, football NFL, ma anche college football, college basket, MLB, insomma chi più ne ha più ne metta, seguiamo tutti gli sport americani e siamo in 5, quindi contattateci perché oltre alla rubrica che è alla, oddio mi sto impappinando, oltre alla guida, oddio adesso ce la faccio con camera, oltre alla guida vi daremo anche l'accesso fino a fine anno nel nostro canale VIP per tutti gli appassionati di sport americani, contattateci, trovate tutti i riferimenti qui sotto. Ok, iniziamo con il programma Calcio Champions League, quinta giornata della fase gironi, sono in campo anche due italiane, entrambe alle ore 21, andiamo un po' a vedere anche cosa ci dicono dagli articoli usciti già ieri nella nostra redazione sul sito betitaliaweb.it Atalanta-Dinamo-Zagabria, l'avventura dell'Atalanta in Champions era iniziata proprio a Zagabria dove gli uomini di Gasperini persero 4-0, la Dinamo arriva da due partite ad alto punteggio e quando gioca la Dea i gol solitamente non mancano mai, noi siamo andati con combo bet Atalanta più over 1,5 a 1,83 stake 3 come consiglio sul sito. Le picche ufficiali come sempre alla fine della rubrica quando iniziamo appunto a parlare di free pick. L'altra italiana in campo, Juventus-Atletico Madrid, se ne sta parlando già tanto anche sul nostro canale il basport web, ci sono alcuni utenti che ne stanno parlando, tra l'altro riporto il post di Luca che segnala un over a 2,30 su bet 3,65 tra Juventus-Atletico che potrebbe essere interessante. Del resto gli ultimi tre precedenti tra queste due squadre si sono sempre chiusi con over compresa l'andata Madrid 2-2 dove successe tutto nel secondo tempo. I bianconeri andarono sul 2-0 con le reti di Quadrado e poi di Matuidi al 65esimo ma prima Savic al settantesimo di mezzo alle distanze, poi Herrera al novantesimo pare Gioin-Extremis. Memore anche dell'andata oltre che del secondo tempo di Bergamo in campionato per la Juve che ha ribaltato il risultato segnando tre gol, consigliamo secondo tempo con più gol a 2,10 stake 2 però come detto interessante anche l'over 2,5 anche perché dietro c'è qualche assenza per l'Atletico Madrid quindi considerate queste due giocate. Calcio si gioca anche la Championship, sei incontri per il diciottesimo turno infrasettimanale della cadetteria inglese da non perdere Cardiff Stoke, riporto sempre i consigli dal nostro sito betitaliaweb.it, i gallesi del Cardiff non stanno attraversando un ottimo momento, hanno vinto solo una delle ultime 5, in campionato hanno incassato in tutto 5 vittorie in 17 partite, 25 gol fatti e 25 subiti. Oggi abbiamo consigliato proprio gol-gola 1,90 contro lo Stoke che è penultimo in classifica e concede molto ma un gollettino al Cardiff potrebbe anche farlo. Fulham Derby, il Fulham è quarto in classifica, non vuole perdere terreno dalle zone alte, il Derby è undicesimo ma ha lo sguardo al sesto posto che dista solo 5 punti, anche qui abbiamo consigliato un over 2,5 a 1,65. Infine vi segnaliamo Reading-Litz, dopo 3 vittorie e un pareggio il Reading si è fermato in esterna contro il Brentford, il Litz invece è secondo con 34 punti a meno 2 dalla vetta, gli ospiti hanno perso solo una volta in trasferta e hanno subito solo 4 reti, abbiamo consigliato proprio la vittoria del Litz a 1,80. Basket, 3 appuntamenti in Germania per la Basketball Bundesliga, il massimo campionato di pallacanestro tedesca, alle ore 19 Bamberg contro Würzburg e Telecom Bonn contro Alba Berlino, alle 20.30 il posticipo dal sapore europeo con i campioni in carica del Bayern Monaco che ospitano l'Ulm. Se andiamo a vedere le quote anteposti proprio il Bayern Monaco domina a 1,30 per la vittoria del campionato tedesco, l'Alba Berlino a 4,50 è l'avversario più accreditato mentre con il Broz Bamberg si sale subito in doppia cifra a 14. Si gioca anche in Francia, triplo appuntamento serale con la Ligue Nationale de Basket, in contemporanea alle 20.30 ci sono Chalon contro Chollet, Dijon contro Rouen e Limangebourg, nessuno sembra però tenere il passo della capolista Lyon che è anche la grande favorita dalle quote anteposte, il Lyon ha vinto 9 partite su 9, si gioca a 1,90 la sua vittoria nel campionato di palla canestro francese, Monaco principale avversario a 4,75, anche qui poi c'è un grande salto in doppia cifra con lo Strasburgo a 18. Passiamo alla pallavolo Champions League femminile, inizia con tre partite, la seconda giornata della fase gironi della Champions femminile, alle 17 Kim Ki contro Lotz, qui adesso ci iniziamo a divertire con le pronunce, alle 18 trasferta finlandese per le giocatrici turche dell'ex Acibasi, attese sul campo del Viesti, infine alle ore 19 le ungheresi del Vasas Budapest ospitano le francesi del Nantes, dai è andata anche abbastanza bene con le pronunce. Domani sono in campo anche le italiane Conegliano, Scandicce e Novara, parleremo un po' più approfonditamente anche di pallavolo, c'è anche il turno infrasettimanale di Serie A1 maschile, quindi con Insider potremo mettere qualche giocata domani. Oggi ci concentriamo sull'Occhi su Ghiaccio KHL, ieri abbiamo pagato l'Overa Mosca, lo Spartac ha vinto solo 1-0, rimaniamo comunque in profitto con le giocate stagionali di Insider sulla KHL, 60 pic giuste, 33 sbagliate, sono un più 40,33 unità di profitto, è un ROI che è un po' sceso al 19,20%, rimane comunque un ottimo ROI quando siamo arrivati a 93 pic, ci avviciniamo alle 100 pic stagionali. Oggi sono 7 gli incontri in programma per la Continental Hockey League, si inizia alle 15 con Yekaterinburg, Nidni, Novgorod e Magnito Gorsk contro Baris, ma anche Traktor contro CSKA Mosca con la CSKA che deve darsi una svegliata. Successivamente alle 17 c'è Cere Povets, Dinamo Riga, alle 17.10 Dinamo Minsk, Vladivostok e alle 17.30 si chiuderà con una doppia sfida, Dinamo Mosca, Jaroslav e Jokeryt, Kabarovsk. Passiamo alle free pick, abbiamo detto ieri piccolo positivo, purtroppo non è entrata la tripla del Presidente a 5.91 di quota, stake 1, purtroppo c'è mancato un gol tra Albino Leffe Carrarese. Tanto mi arrivano notifiche, vediamo. Sì, niente, niente, siamo già con 12 free pick, siamo a posto. Comunque dicevo non è entrata perché avevamo giocato Arezzo Novara gol gol, Chievo in tela 1 e Albino Leffe Carrarese gol gol, purtroppo è finita 1-0 questa partita, la Carrarese non è riuscita a segnare. Come anticipato abbiamo sbagliato anche nell'Hockey, Sparta-Mosca al nette chimico, over 4.5-1.90, abbiamo visto una partita da un solo gol, però si è chiusa la multipla sul calcio del weekend di Darius, 5.32 di quota, aspettavamo l'over 1.5 tra Lecce e Cagliari, è finita 2-2, quindi entrano le 5 selezioni di Darius che anche oggi ci dà una multipla. Iniziamo proprio dalla multipla sulla Champions League del nostro Darius, quota 4.28, stake 1, anche qui stake minimo, 5 selezioni delle partite tra oggi e domani, iniziamo allora. Atalanta-Dinamo-Zagabria 1 fisso, Juventus-Atletico-Madrid 1x, Tottenham-Olympiakos 1, Lille-Ajax x2 e Genk-Salisburgo x2. Queste 5 partite in multipla si giocano a 4.28 di quota, stake 1. Rimaniamo sulla Champions League, preparati i tacchini, studio di D'Artagnan, cerchiamo di chiudere il settimo studio consecutivo, in profitto ci sono 3 giocate per oggi e vi ho anche già le 3 giocate per le partite di domani, in tutto 6. Iniziamo da Locomotive-Mosca-Bayer-Leverkusen 1x a 1.88, stake 2, il Bayern in trasferta non va benissimo, non convince, non ha segnato in 4 delle ultime 6 partite fuori casa, la Locomotive-Mosca potrebbe almeno incassare un pareggino, quindi andiamo con l'1x a 1.88, stake 2. Passiamo a Real Madrid-Paris-Saint-Germain over 2.5 a 1.50, stake 4, qui alziamo l'investimento perché la quota è un po' più bassina, considerate però eventualmente anche l'over 3.5 che qui si va oltre la pari di quota, perché parliamo di due attacchi pieni di stelle, non a caso hanno sempre segnato over 2.5 nelle ultime 4 sfide tra di loro, il PSG ha segnato 4 over di file in tutte le competizioni in trasferta di recente, mentre Real Madrid ha segnato 4 over nelle ultime 5 partite tra Liga e Champions League. Passiamo a Stella Rossa-Bayern-Monaco, qui andiamo con Bayern-Monaco over 2.5, 1.72, stake 2, il Bayern ha segnato 15 gol nelle prime 4 partite del girone che sta comandando, compreso il 3-0 sulla Stella Rossa all'andata. La Stella Rossa ha subito 13 gol in 4 partite, andiamo con almeno 3 reti per i tedeschi. Vediamo le giocate di domani, Valencia-Celsi over 2.5, 1.66, stake 2, al Mestalla arrivano i Blues, secondo miglior attacco di Premier League con 47 gol segnati, ma anche il Valencia in casa segna tanto, il Valencia ha segnato 40 gol nelle ultime 15 partite al Mestalla. All'andata questa sfida è finita solo 1-0 per il Valencia a Londra, ma in questo momento le squadre hanno un altro passo e consigliamo over 2.5. Passiamo a Barcellona-Borussia Dortmund, qui invece andiamo con Under 3.5, 1.66, stake 2, queste sono due squadre che all'andata in Germania hanno pareggiato 0-0, nonostante i grandi nomi, Barcellona e Borussia hanno sommato solo 9 gol segnati nelle prime 4 rispettive partite del gelone di Champions League, quindi andiamo con una partita sotto i 4 gol totali. Chiudiamo lo studio con Lilla-Ajax, Ajax over 1.5, 1.61, stake 3, i lanceri hanno segnato esattamente 4 gol in tutte le ultime 5 partite, compreso un 4-4 di Champions League spettacolare contro il Chelsea. All'andata l'Ajax ha vinto 3-0 contro il Lilla, la qualificazione è ancora in ballo per i lanceri che potrebbero segnare almeno due reti anche in questa trasferta. Li prendiamo con stake 3 a 1.61. Chiudiamo la rubrica con le ultime 5 giocate di hockey su ghiaccio di Insider, la KHL, iniziamo da Yekaterinburg-Nizny Novgorod, andiamo con la vittoria dello Yekaterinburg nei tempi regolamentari, quindi 1x2, quota 1.90 stake 2. Dopo 4 vittorie la squadra di Novgorod si è fermata in trasferta sul ghiaccio del tractor, un risultato deludente, anche oggi giochiamo contro il Novgorod andando sullo Yekaterinburg che invece arriva da due vittorie consecutive e ha vinto 6 delle ultime 7 partite. Seconda giocata, Metalurg contro Baris Nur-Sultan, andiamo sulla vittoria del Metalurg a 1.65, stake 2. Qui andremo in cassa anche se il Metalurg vincerà in overtime o ai rigori. L'accennata ripresa del Metalurg si è interrotta con 3 brusche sconfitte, ma anche il Baris non se la sta passando bene ultimamente, ha perso 3 delle ultime 4 partite. Proviamo con la vittoria interna del Metalurg. Passiamo a Tractor contro CSKA Mosca, over 3.5, 1.60 stake 3 la nostra giocata, almeno 4 gol tra il CSKA che è primo a ovest, e il Tractor che è ultimo a est, anche se nell'ultima uscita lo abbiamo visto bene, come detto, contro il Nizhny Novgorod. Vediamo. Il CSKA in difficoltà, 4 sconfitte nelle ultime 5, momento davvero difficile anche se parliamo di un attacco da 88 gol segnati. Dall'altra parte il Tractor è in ripresa ma rimane ultimo nel suo girone, ha subito 83 gol in 32 partite. Andiamo quindi con almeno 4 gol in questa sfida. Passiamo a Cerepovets Dinamoriga, anche qui over 4.5, 2.25 stake 2. Cerepovets ultimo a ovest con 86 gol subiti, la Dinamoriga ha solo un punto in più e difensivamente fa anche peggio, la bellezza di 98 gol subiti in 32 partite. In 7 degli ultimi 9 precedenti tra queste due squadre è sempre stato over, nelle tre sfide più recenti abbiamo assistito a 7 gol totali di media, quindi andiamo con almeno 5 gol in questa sfida ed è una bella quota oltre la pari a 2.25. Chiudiamo con un altro over, Dinamo Mosca, Lokomotiv, Jaroslav over 4.5, 1.90 stake 2, anche qui over tra due attacchi che hanno superato entrambi gli 80 gol segnati. La Dinamo arriva da una partita da 4 gol totali, ma prima aveva sempre segnato over in 7 partite di fila, sono invece 5 gli over consecutivi recenti dello Jaroslav. A settembre lo Jaroslav in casa ha vinto per 5-2 contro la Dinamo Mosca, speriamo di vedere anche oggi un risultato del genere, sia da una parte che dall'altra, ma di vedere almeno 5 gol per incassare. Quindi direi di avervi dato tutto, 12 peak, facciamo un velocissimo riassunto. Studio di D'Artagnan, Lokomotiv, Bosca, Bayer, Leverkusen 1x, 1.88 stake 2, Real Madrid, Paris Saint-Germain over 2.5, 1.50 stake 4, qui valutate anche l'over 3.5 abbassando lo stake. Stella Rossa, Bayer, Monaco, Bayern over 2.5, 1.72 stake 2, Valencia, Chelsea over 2.5, 1.66 stake 2, Barcellona, Borussia, Dortmund, Under 3.5, 1.66 stake 2, Lilla-Ajax, Ajax over 1.5, 1.61 stake 3. Poi c'è la multiple di Champions League di Darius, a 4.28 di quota stake 1 e il nostro Darius ha selezionato Atalanta-Dinamo-Zagabria 1, Juventus-Atletico-Madrid 1x, Tottenham-Olimpia 1, Lille-Ajax x2 e Gengs-Salisburgo x2. Infine le giocate di hockey su ghiaccio KHL ed Insider, Yekaterinburg-Nizny-Novgorod 1, nei tempi regolamentari, a 1.90 stake 2. Metalurg-Baris-Nursultan 1, a 1.65 stake 2. Tractor-CSKA-Mosca over 3.5, 1.60 stake 3. Cerepovets-Dinamo-Riga over 4.5, 2.25 stake 2. E infine Dinamo-Mosca-Jaroslav over 4.5, 1.90 stake 2. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo oggi pomeriggio l'appuntamento con Sport USA News & Tips per parlare ancora di sport americani e segnalarvi le migliori info, le migliori statistiche e le migliori free pick. Un saluto a tutti, per quanto riguarda Bet Italia Web Daily Show ci ritroviamo domani sempre intorno a mezzogiorno, come al solito, passate un buon martedì, buona Champions, buone scommesse, ma puntate sempre con la testa. Ciao ciao!